Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti alla puntata numero 292 di Racing Time se pensavate che oggi avrei dato forfait ebbene vi sbagliavate di grosso perché eccomi qui sapete benissimo che per me il weekend è un momento molto intenso, particolare perché sono sempre in pista però sapete anche che o trasmetto dalla pista o piuttosto lo faccio da qui anche alle ore piccole come oggi anche tardi però comunque non manco all'appuntamento quindi ci tenevo a esserci anche oggi anche perché a dispetto del fatto che questo di solito è un periodo dove ci sono pochissime notizie, in realtà di notizie ne abbiamo veramente a sufficienza se andiamo a guardare il fatto che siamo a pochissimi giorni dal Natale quindi questa cosa devo essere sincero sta stupendo anche me e a proposito di questo volevo ringraziare tutti i nostri contatti che continuano per amore e credetemi del motosport a fornirci delle news costantemente e quotidianamente quindi grazie, grazie di cuore, non posso fare nella maggior parte dei casi nessun tipo di approfondimento su questi ultimi però un ringraziamento è sempre molto molto doveroso e quindi ci tenevo a farlo bene, iniziamo questa puntata parlando di un qualcosa che riguarda ovviamente l'universo rosso perché questo è un canale tutto dipinto di rosso come potete vedere quindi come facciamo avendo notizie a non parlare di Ferrari e vi do una news che riguarda Masser che secondo me è molto 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 importante per quale motivo? allora nel periodo, dovete sapere questa cosa qui, non ve l'ho mai raccontata però è successa nel periodo in cui la dirigenza della Ferrari non aveva ancora deciso in maniera definitiva di assegnare il ruolo di team principal a Masser anzi, quando proprio stava trattando con altre figure nel tentativo di convincerle ebbene, ho parlato con un po' di persone direttamente interessate dal lavoro che viene fatto a Maranello ho parlato con un po' di gente a Maranello, in poche parole e il dubbio di molti era questo anzi, devo dire proprio di tutti Masser è una persona molto impegnata al di fuori della Formula 1 perché ha tanti interessi qual è l'Art Grand Prix ad esempio, che è una scuderia molto prestigiosa, gloriosa che fa correre vari piloti in Formula 2, in Formula 3, in Formula Regional, in Formula 4 addirittura firma dei telai, i Birel Art, così si chiamano quindi, diciamo, è una realtà del motorsport molto ramificata e Masser l'ha sempre curata, assieme a Nicola Stodd, in primissima persona ebbene, quello che mi dicevano tutti non è l'unica realtà che ha Masser perché poi lui è coinvolto ad esempio nella Spark o in tante altre società molto molto importanti soprattutto nell'ambito dei motori e del motorsport allora, tutti quanti mi dicevano io ho lavorato con Masser, io conosco Masser e so che lui comunque non sarà mai disponibile 24 ore su 24 7 giorni su 7 per la Ferrari ebbene, una delle cose che la dirigenza Ferrari ha chiesto a Masser è stata esattamente questa cioè a dire andare a svincolarsi di tutti i suoi precedenti impegni e quindi di tutte, perlomeno del fatto che curava direttamente queste realtà che vi ho nominato e quindi dare l'esclusiva del suo impegno, del suo lavoro alla Ferrari ed è proprio questo che Basser ha fatto è forse stata alla fine, come dire, la spinta definitiva per l'ufficializzazione cioè a dire rinunciare a tutto quello che aveva fatto nel motorsport prima di oggi, delegando in maniera quasi del tutto definitiva per concentrarsi su questo ruolo questo non vuol dire che sia uscito dalle società però comunque le guarderà così di sbiego ma non le curerà in maniera diretta proprio per concentrarsi al 100% sul suo ruolo di team principal in Ferrari che parliamoci chiaro per lui è 1. l'occasione di una vita 2. una consacrazione, se dovesse far bene definitiva nel ruolo di team principal quindi fantastico questa è una cosa molto importante che serve a dare tranquillità a tutto l'ambiente perché poi questa cosa è venuta fuori e che serve a, come dire, tranquillizzare anche i tifosi perché no poi, sempre per quel che riguarda la Ferrari vi presento un pilota un pilota che molto probabilmente interesserà la Ferrari già un pilota Ferrari ma interesserà la Ferrari per i massimi programmi sportivi perché sta dimostrando di essere molto molto bravo oltre che ben appoggiato allora, lui si chiama Rafael Camara è un pilota brasiliano ed è un pilota dell'FDA da praticamente tutto il 2022 lo è diventato a fine 2021 vincendo un importante contest che coinvolge la Ferrari organizzato dalla FIA e si è ben comportato nei ben tre campionati di Formula 4 a cui ha partecipato cioè il campionato europeo dove è stato vicecampione il campionato italiano e quello tedesco dove ha finito al terzo posto da debuttante e soprattutto lo ha fatto vincendo in totale in tutti e tre questi campionati ben nove gare allora mi è capitato di parlare con uno degli ingegneri che lo segue e mi ha raccontato un gran bene di questo ragazzo che è molto metodico molto preciso molto professionale ma soprattutto estremamente talentuoso e veloce e pare stia bruciando le tappe tant'è che la Ferrari il prossimo anno lo farà correre sempre con la scuderia di punta che è la Prema in Formula Regional quindi segnatevi questo nome e ricordatevi questo volto che sono sicuro presto arriverà state tranquilli che arriverà anche perché ripeto è appoggiato abbastanza bene quindi comunque avrà tutte le carte in regola per poter partecipare a varie serie anche molto impegnative continuiamo a parlare di Formula 1 e di Team Principal perché attualmente ci sono due team scoperti la Williams è una e la Sauber Alfa Romeo che è la seconda a proposito di questo alcuni di voi mi hanno chiesto come mai Basset non deve rispettare un periodo di Gardening Living semplice perché Sauber Alfa Romeo è stata consenziente per quel che riguarda ma ci mancherebbe questo tipo di trasferimento quindi non ha imposto ovviamente a Basset nessun tipo di pausa di sei mesi un anno quello che è invece Binotto ad esempio lo dovrà rispettare ebbene per quel che riguarda la Williams uno dei candidati e questa è una notizia molto importante perché ha dei risvolti politici notevoli è Susie Wolf la bella Susie Wolf che è moglie di Toto Wolf e che andrebbe alla guida di un team motorizzato Mercedes ma immaginatevi un attimino quanto a livello politico i rapporti con Susie Wolf alla guida della Williams potrebbero stringersi tra Mercedes e Williams che diventerebbe ancora di più una sorella minore della Mercedes ma tutti i top team ce l'hanno Ferrari con la Haas Red Bull con l'Alfa Tauri però significherebbe andare proprio totalmente d'accordo e quindi essere ancora più forti politicamente rispetto a quando c'era Joss capito quindi non so se avete capito ma più o meno così andrà a finire poi vedremo se effettivamente Susie Wolf vorrà accettare poi ultima notizia che riguarda la Formula 1 la scuderia Alfa Tauri ha girato con la vettura del 2022 giorno 14 e 15 di questo mese a Portimao con il primo giorno Yuki Tsunoda il secondo giorno e invece il nuovo acquisto Debris scusate non mi devo confondere con questi con questi nomi Debris che ha fatto tantissimi chilometri addirittura c'è chi dice nel team che l'Alfa Tauri abbia accettato di fare questi test soprattutto per far fare tanti chilometri a Nick Debris a proposito di questo vi faccio vedere un brevissimo video che riguarda appunto questi test godetevelo avete visto lo scarto che ha avuto in piena curva la vettura ebbene questo era a inizio turno e quindi il pilota era leggermente in difficoltà poi mi è stato detto che i tempi sono stati abbassati tantissimo che non ci sono stati errori e che il pilota piano piano ha preso sempre più in mano una vettura che in realtà aveva già guidato durante i test di Abu Dhabi bene facciamo un salto di categoria vi faccio vedere una foto di un marchio mitico italiano che come vi avevo anticipato debutterà nel WEC stiamo parlando dell'Isotta Fraschini che nel 2023 correrà appunto nel WEC e che ha divulgato due immagini della propria vettura questa e questa ora su questa ci torniamo ma soprattutto ha comunicato che a guidare tutto il programma WEC sarà niente poco di meno che Claudio Berro stiamo parlando di un top manager che ha esperienze in Ferrari in Peugeot in Maserati e in tanti ed è stato coinvolto in tanti e con tanti altri marchi sportivi e quindi io credo sia la persona ideale a traghettare questa avventura voluta ve lo ricordo da Michelotto molto ambiziosa cioè quella di prendere un marchio così pieno di storia riportarlo in auge e farlo correre in una serie molto molto impegnativa a proposito delle immagini divulgate dalla i sottafraschini vi do qualche dato allora innanzitutto il motore sarà un V6 di 3 litri turbo con 7 marce ma soprattutto guardate qui abbiamo un estrattore veramente molto molto voluminoso molto voluminoso grande grandissimo con una rampa molto dolce se ci fate caso la rampa in altri prototipi in altre vetture che correranno nel WEC l'abbiamo vista più o meno a questa altezza invece qui la rampa è molto più dolce ed è molto probabile che accoppiata questa rampa dolce abbiamo uno un baricentro molto basso con il motore un po' come per la signorina posizionato abbastanza in basso due dei canali venturi molto stretti che appunto si ben accoppiano come abbiamo spiegato in un altro video a una rampa molto dolce andiamo avanti con la puntata perché abbiamo iniziato a parlare di WEC nel WEC corrono anche le GT e poi c'è anche la GT World Cup in quest'ultima sarà impegnato Valentino Rossi ed oggi e qui vi parlo di una cosa che mi tocca direttamente oggi è stata presentata la vettura con la quale correrà chi? Valentino Rossi poi Maxime Martin pilota BMW e un altro pilota da sempre legato alla BMW ovvero Augusto Farfus ebbene tutte le volte che io sento parlare di questo pilota mi accendo un attimo volete sapere perché? allora Augusto Farfus è brasiliano era l'erede designato di Felipe Massa dopo Massa c'era lui che correva nella allora Formula 3000 con questa non con questa ma con questa vettura e qui siamo al motorshop ebbene guardate la sponsorizzazione le conte volete sapere perché ha le conte qui sulle fiancate le conte l'avete visto tante volte è un marchio al quale io sono legatissimo ebbene questo pilota è stato il pilota che è venuto dopo di me come in qualità di collaudatore della le conte cos'è la le conte oggi la le conte è tra l'altro prima si chiamava conte non avevo fatto caso ho la divisa di come stavo in pista prima si chiamava conte sportale poi hanno cambiato in le conte ed è oggi la casa leader a livello mondiale di pneumatici nel kart però dovete sapere una cosa che questo processo ha richiesto del tempo tanti chilometri di test ebbene augusto farfus ne ha fatti parecchi di chilometri di test ma prima di lui il collaboratore all'alle conte nonché pilota ufficiale ero io ero io io ho fatto un sacco di chilometri al freddo perché si provava soprattutto d'inverno in quanto poi le gare partivano da febbraio in poi a Chizzola di Ala per esempio un circuito fantastico ma dove d'inverno le temperature scendono tranquillamente sotto lo zero ebbene a un certo punto io ho come dire dovuto rinunciare a questo affascinante compito perché significava spostarsi di continuo e avevo altri progetti che poi come vedete ho realizzato e allora dopo di me venne Augusto fu chiamato Augusto Farfus e questa cosa mi riempie di di gioia d'orgoglio lo volete sapere perché perché Augusto Farfus è un pilota fortissimo tant'è che ancora oggi è pilota ufficiale della BMW è destato a tanto così veramente a poco 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 così dal passare in Formula 1 non c'è riuscito per pochissimo ma la BMW l'aveva già adocchiato l'ha preso subito come pilota ufficiale talentosissimo e non l'ha mollato più e io sono onorato di essere stato quello che prima di lui collaudava questi pneumatici bellissimo beh ragazzi oggi ovviamente è puntata un po' più è corta un po' più scarna per via dei miei impegni in pista che non mi hanno permesso di fare due cose uno mettere insieme una puntata un pochino più lunga e più piena ma comunque credo che oggi non vi possiate lamentare che un po' di news le abbiamo date soprattutto se consideriamo il periodo e seconda cosa ancora i capelli li ho fatti ma la barba ancora no bene ragazzi per questa puntata è tutto se vi è piaciuto al solito lasciate un like un commento condividete il video sui vostri social e iscrivetevi al canale attivando la campanellina se non l'avete ancora fatto e nulla ci vediamo domani aspettatemi che arrivo un bacio a tutti ciao ciao